Mettetevi il cuore in pace. Anche martedì sarà una giornata caldissima in provincia di Arezzo, almeno stando alle previsioni di trebi meteo. Si prevede infatti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata e le piogge non sono proprio previste. Durante la giornata la temperatura massima arriverà fino a 36 gradi, anche se quella percepita sarà ben più alta. La minima a 19, con i venti che saranno sostanzialmente assenti o molto deboli, provenienti da direzione variabile. Al pomeriggio saranno deboli e proverranno da sud-ovest. L'unica allerta che arriva da trebi meteo è quella di un'afa persistente. Mercoledì il caldo attanaglierà ancora la provincia di Arezzo, anche se con un lieve calo la temperatura massiva, sempre prevista da trebi meteo, sarà di 33 gradi, la minima di 20. Da giovedì si comincia a stare decisamente meglio. Durante la giornata trebi meteo prevede una temperatura massima di 28 gradi, la minima di 17. I venti deboli proverranno da ovest-nord-ovest e non sono previste allerte legate all'afa. Intanto al pronto soccorso dei vari ospedali della provincia di Arezzo non si registra un particolare picco di accessi per disagi o malori legati a questa ondata di caldo.